quest'opera di alexander caneschi si intitola michelangelo ed è un omaggio al grande maestro del nostro passato è un olio su legno di 122 per 244 centimetri del 2017 in quest'opera si vede si ritrae anzi appunto si omaggia un michelangelo maturo uno degli artisti che con la sua pittura ha forse più di ogni altro influenzato lo stile di caneschi il michelangelo che viene raffigurato dal maestro è appunto un uomo maturo ormai già un artista esperto che tiene in mano un pennello che è fondamentale strumento ovviamente del suo lavoro e chiunque osservi alcune delle più clamorose pagine di storia dell'arte donateci proprio dal genio michelangelo ad esempio giudizio universale della cappella sestina non potrà che notare nell'opera di caneschi forti rimandi ad esempio nelle rese dei corpi nella muscolatura insomma caneschi guarda fortemente proprio a quel tipo di arte della cappella che si so